Sono stati appaltati per 1,4 milioni di euro i lavori di consolidamento e riqualificazione urbana della zona nord-est di Barra Franca, comune in provincia di Enna. L'ufficio contro il distesto idrogeologico guidato dal presidente della regione siciliana Renato Schifani e diretto da Maurizio Croce ha così completato l'iter per mettere la parola fine a una situazione di pericolo ma anche di forte degrado ambientale che si trascinava da tantissimi anni. Erano condizioni inaccettabili per un contesto urbano. Tengo a sottolineare la fattiva collaborazione con la Commissione straordinaria che amministra il Paese, dice il Governatore, al quale adesso verrà finalmente restituito uno spazio vivibile con una nuova identità. L'obiettivo infatti è realizzare un'area verde con percorsi pedonali lì dove il completo abbandono e una serie di movimenti franosi già arginati nel 1996 dal genio civile con un intervento d'urgenza che nel tempo ha esaurito parte della sua efficacia avevano creato a tutti gli effetti una zona inaccessibile. Si tratta di un'area di 4.000 metri quadrati sottoposta a continui smottamenti del terreno che potrebbero diventare un serio pericolo per le abitazioni che si trovano lungo il perimetro della zona da bonificare. Il progetto prevede la formazione di alcune gabbianate che verranno disposte su tre file per assicurare piena stabilità al suolo mentre per mettere in sicurezza gli edifici si ricorrerà dei muri. La regimentazione delle acque invece sarà attuata attraverso opere di drenaggio a beneficio anche del cosiddetto impatto paesaggistico.